Molto buoni, il nostro partenariato strategico globale ha compiuto 15 anni di mostrarle tutta l'attenzione, esprimiamo due civiltà flore milenari, lei stesso quando ha lanciato nel 2013 l'iniziativa della Belt and Road ha chiaramente sottolineato come intrecciate sin da allora e hanno potuto condividere interessi, scambi culturali, scambi commerciali, incontro sia proficuo e ci consenta di guardare con rinnovato interesse, a nome del governo italiano che ho sentito il cordoglio per la progenia che c'è stato nell'impianto chimico nella provincia ambientale, la volta colpiti dal numero dei morti e del centinaio di feriti, quindi veramente il popolo italiano in questo momento è vicino e con molta partecipazione. di griempio mensonge e scambi « Kevinми» a una nuova scambi relativamente boi e della non stavia e della mia amandaol Labour ha сотрудник fotovano e della revisione extresa ao punto datere della mia famiglia dopo aver guardato dallanse di questo OzVR chi è il corso dell'astrella Grazie a tutti. Grazie a tutti.